Di missioni accolte, letta in casa e il passo indietro della De Girolamo senza nessun commento ufficiale. Il dossier in pasto, per ora rinviato, sarà lo stesso Premier a prendere l'interim del Ministero dell'Agricoltura che la De Girolamo ha lasciato ieri sera tra le polemiche. L'esecutivo non ha difeso la mia onorabilità, me ne vado. L'ormai ex ministro non affronterà la mozione di sfiducia presentata dai grillini, che era in calendario il 4 febbraio alla Camera. Troppe le accuse e i sospetti sul suo coinvolgimento nell'inchiesta sugli appalti sull'Asla di Benevento, dove comunque non risulta indagata. E a differenza dal caso Cancellieri o da quello dello stesso Alfano, nessuna difesa da parte del Premier. Una sensazione di solitudine resa plastica nel giorno del suo intervento in aula il 17 gennaio, quando di fronte all'emiciclo di Montecitorio semivuoto aveva parlato senza il sostegno di Letta, sempre presente invece nei casi Cancellieri e Alfano. Un silenzio, quello del Presidente del Consiglio, che con il passare dei giorni si è fatto pesante. Ho tentato di farla restare, dice il Vice Premiere e leader del suo partito Alfano. Di certo ora il Governo è più debole. Gli equilibri infatti sono fragili. Aprire ad un rimpasto, prima che i tempi siano maturi, rischia di innescare il cortocircuito. Anche perché Renzi, lo ha ripetuto anche oggi, si tira alla larga dalla partita. La questione è nelle mani di Letta, spiega. Ma dopo averla criticata politicamente, riconosce alla De Girolamo l'onore delle armi. Massimo rispetto in Italia, non si dimettono in tanti. Di fatto le dimissioni lasciano un fianco scoperto al partito di Alfano che una legge elettorale bipolare rischia di rispingere tra le braccia di Berlusconi. Non a caso si sussurra di un ritorno di De Girolamo alla casa madre. Ritorno smentito dal suo partito, resterà con noi, ribadisce Schifani. Non ha mai dato e non darà la sensazione di essere attaccata alle poltrone. Di certo, Forza Italia non è come l'ambulanza del Giro d'Italia che raccoglie i gregari della Maglia Rosa, scrive nel mattinale Renato Brunetta, che offre però solidarietà personale all'ex ministro e recita il De Perufundis per il partito di Alfano. Soddisfatti invece i grillini che, dopo aver presentato una mozione di sfiducia per la De Girolamo, oggi rivendicano la vittoria. Il rimpasto non serve, li mandiamo tutti a casa.